amici dello sportello del cittadino siamo a taranto dinanzi alla concattedrale e vogliamo mostrarvi lo stato di decozione di abbandono di palude in cui versano le famose vasche della concattedrale ideata dal grande joe ponti bene qualche mese fa vi fu un'azienda che se non ricordo male a proprie spese coordinata dal comune realizzò questa realizzò la riqualificazione di queste di queste vasche bene sono passati alcuni mesi e le vasche purtroppo giacciono nel degrado completo vedete si è creata proprio una palude vedete il proprio la melma il colore verde verdastro che la dice lunga sul fatto che a taranto questa è la realtà la manutenzione ordinaria non esiste allora io dico l'azienda ha provveduto tu comune tu sindaco tu assessore ai lavori pubblici provvedi affinché come dire il ripristino iniziale che è stato compiuto poi perduri per manga nel tempo in buona sostanza manca a taranto la manutenzione ordinare io conosco l'assessore lonuce so che un un politico di strada nel senso più positivo del termine e ascolta le istanze bene lonuce risolviamo questa situazione delle vasche della concattedrale perché è assurdo no riqualificare poi abbandonare tutto andiamoci da fare e che brutto biglietto da visita per i turisti imbattersi in un'opera come la concattedrale e imbattersi pure nella melma fra un po vedremo anche le rane se già non ci sono